Vi ricordo che se volete acquistare crediti potete andare su TheFootShop.com e con il codice GODSDREG Avrete il 5% di sconto Bello ragazzi bentornati qui sul mio canale e bentornati sul Rock Division 1 Oggi dobbiamo vincere il titolo della divisione 7, abbiamo una partita da pareggiare minimo Comunque raga io ho bisogno assolutamente di spacchettare qualcosa perché non ce la si può fare veramente E' impossibile, cioè sto con i pezzi al culo, manco lo titolo raga, manco lo titolo Comunque andiamo a giocarci la prima partita di oggi e vediamo di vincere il titolo Almeno prendiamo qualche soldo in più E un po' c'era la squadra di Cristo, sconchedatori Dai rega porca di me, vai così, vai così Giochiamo tutto di faffi, no cos'è questa merda Grande sul primo palo, ottimo Beh non vinceremo mai il titolo, ho capito Vai Okaka, vai Okaka Liso Okaka, Okaka che gol Stefano Okakasciuka vai a prendere il pallone Vai Okaka Un gol assurdo Sotto il 7 Vai Okakasciuka, vai Okakasciuka Via allora Vai Lazarevic, violento Violento e cattivo Marcolino Sau Oh mio Dio Okaka cosa ha visto Oh mio Dio Sau 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 Okaka cosa ha visto Un'infiltrazione infiltrante Okaka per Marcolino No rega che filtrante che ha fatto Qua c'è un po' un erbagliato Dopo quello stop che ha fatto Oddio Okaka Oddio Okaka Oddio Okaka Che controllo di merda Oddio Okaka Fallo fallo Madonna Il secondo controllo non l'ha fatto male Vabbè rega 2 a 2 10 tiri in porta ha fatto questo Ma quando mai Vai vai Sau Sau Marco Vai Marco Vai Marco Party Vai Marco Party Vai Marco Party Marco Marco Sau 3 a 2 3 a 2 Marco Sau 3 a 2 Marco Sau Marcolino dove l'ha messa Marcolino Sau Poi ho fatto la fitta Ma non l'ha fatta Vabbè lo guarda Voleva fare il GBM Ma l'ha fatta Sempre col palo gol Vai per Lazarevic 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 Oddio l'ha messa Oddio l'ha messa Per Marco Sau Oddio Lazarevic L'ha messa Ed è il 4 a 2 Il 4 a 2 di Sau Signori Sau che giocatore Signori Sau che giocatore è Okaka Va bene va bene uguale per Dibala Vai Okaka Okaka fallo 5 a 2 signori 5 a 2 Che violenza del fritella Che violenza del fritella Che sta andando a vincere Un titolo importante Per i crediti Un titolo importante Per tutti i cazzo di crediti Che ci danno Mi ci danno un cazzo Che danno 6 mila crediti Finisce signori 5 a 2 Campioni della divisione 7 Con un comeback incredibile Mai visto un comeback simile Titolo vinto Titolo vinto 5 mila crediti Sai io così un po' de respiro I trattori fc Signori I trattori fc Vai Vai Lazarevic Vai Lazarevic Oddio se sono crociati Se sono crociati Lazza Fallo Fallo Lazza Fallo Lazza Lazarevic Vai così Lazarevic lo fa Dejan Oddio 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 Pia la palla Dai madonna Gioco di merda Oh l'è passato E E Vabbè Va bene Deve segnare Ok ho capito Lazza 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 Fallo Lazza Ma che cazzo era Ma che cazzo era Finisce a primo tempo 1 a 1 Con una grande occasione finale Guardi pala fa Ronaldo ciò Oddio Okaka 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 Dove l'ha messa Dove l'ha messa Okaka Che incordata Okaka Okaka Oddio Regalato l'ha messa Oddio Tuve l'ha messa Incredibile Okaka Che aspetta il pallone La inserisce No Tutti indifedi Adesso Tutti indifedi Sceglie per Okaka Che è libero E può partire Però non sceglie Okaka Calcio di rigore Signori È calcio di rigore All'89 Okaka Il numero Debuschi Che lo atterra Marcolino Sau Marcolino Sau Lo va a chiudere Tu 3 a 1 Sempre A vedere Il 4 punto Si fa Un puntissimo La caffa Quello Quanto è che sta Fai Massaggetti 3 a 1 Finisce così La seconda partita Dopo il 5 a 2 Quanto era Della prima 3 a 1 Primi 3 punti In questa nuova divisione Ok signori Terza ed ultima partita 84 Questo qua Sarà un mostro Sicuramente Ottimo Raga Questa è Il pezzo sia La più difficile Che abbiamo affrontato Finora Vai Laza 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 Lazzarevich Lazzarevich Incredibile Incredibile Signori Lazzarevich È un mostro Non so come farò A sostituirlo Prima o poi Mi serve un altro Più forte di Se trova Ma è però Signori Lazzarevich È Dio È completo Vai Okaka Okaka Okakasuka L'ha parata Con la mano sotto No cazzo No che culo Vai Laza Laza è incredibile Laza è incredibile Lazzarevich Okaka Ciuka Okaka Ciuka Okaka Ciuka No puntare Fa il 2 a 0 Signori Lazzarevich È insostituibile È insostituibile Vai Tau Vai Tau Vai Tau Ciokaka Ciokaka Okaka Okaka 3 a 0 Okaka 3 a 0 Incredibile Signori Signori Che team Che squadra E questo rage quitta Subito adesso Questo rage quitta Questo sta rage quittando Ti prego rage quitta Sì Con 3 vittorie oggi Voglio assolutamente 25.000 likes Perché abbiamo veramente Fatto un macello Abbiamo fatto una rimonta Che ci ha fatto Guadagnare il titolo Abbiamo vinto 3 a 0 In 20 minuti Contro Ribery e Sanchez E Ozil Quindi io voglio 25.000 like Per questo episodio Ci sentiamo alla prossima Lasciami un like Un commento E scrivetemi sotto Nei commenti Se per voi va bene Che spacchetto qualcosa Almeno posso Fare qualche credito in più In modo più rapido Dato che Dovrei arrivare A livello 45 E poi manca Manco tanto Per avere il bonus De tipo 1000 crediti Per 10 partite Quindi noi ci sentiamo Alla prossima Lasciate un like Un commento Bello Ricordate che in descrizione C'è G2A Per giochi E abbonamenti Scontatissimi